25 comuni, 3 province, Vicenza, Treviso e Belluno, più di 60.000 ettari di territorio, si candida a diventare riserva della biosfera Mabunesco, Monte Grappa. Un corposo dossier ne spiega il perché, una candidatura dal basso, sostenuta dalla popolazione. Questa è una grande sfida, lo è per la delicatezza del territorio, ma perché rappresenta l'ennesima occasione di dare un governo unitario a quest'area qui. E quindi partendo dalla parte sommitale, in cui esistono tutta una serie già di vincoli, che sono già stati apposti, ma che possono diventare occasione di valorizzazione con una governance unitaria e di sviluppo, diventa particolarmente importante. Fino ad oggi il Massiccio e Grappa ha di fatto diviso le tre province. Con questa candidatura invece si cerca di fare squadra e credo che la forza di questa candidatura parta da due aspetti. Uno, che i territori autonomamente in questi anni hanno lavorato per valorizzare questo territorio. La seconda, che c'è la consapevolezza che facendo squadra riusciremo a valorizzare un territorio che ha straordinarie potenzialità. Venerdì la presentazione, poi la parola passerà ai consigli comunali dei 25 comuni che entro ottobre dovranno approvare il dossier. A novembre la candidatura sarà inviata al Comitato Tecnico Nazionale. Sono 152, per l'esattezza, i progetti che fanno parte del dossier, presentati da 76 soggetti, già appunto in estere e nel territorio, che si svilupperanno anche nei prossimi anni. Le aree di pertinenza sono principalmente tre, che corrispondono anche alle funzioni della futura riserva biosfera. Abbiamo la parte di conservazione, tutela del paesaggio, degli ecosistemi e della biodiversità. Il secondo filone di lavoro è quello della sostenibilità, che riguarda più il mondo impresa. E il terzo sono tutti quei progetti legati al mondo della formazione e dell'istruzione. Siamo assolutamente consapevoli, anche perché siamo in costante contatto con il Ministero dell'Ambiente, che il percorso che stiamo facendo è nella giusta direzione. Si tratta soltanto di rispettare le tempistiche, così come abbiamo fatto da due anni a questa parte. A giugno 2021 il territorio del Monte Grappa conoscerà il risultato.